Come è successo stanotte? Di qua? Sono bruciato di qua ieri da notte alle due. È morto un ragazzo nigeriano qua. Tu conoscevi questo ragazzo? No, si chiama Minata, però non lo so se cosa è giusto il nome. Non lo so. Quindi è un casino di qua ieri notte. Come fate stanotte dove dormite? Oggi speriamo noi dove dormiamo oggi, perché casa nostra è tutta bruciata ieri sera. Come facciamo oggi? Poi speriamo. Tu lavori qua a Rosano? Prima lavoro in campagna, però adesso è finita la campagna. Adesso non lo so dove io devo andare. Ok, va bene. Grazie.